Un Bologna privo di Bulgarelli, Bellugi e altri tre difensori è uscito vincitore nel confronto con la Juventus che si annunciava come una delle squadre più in forma in questo inizio di campionato. La partita è stata molto vivace, ricca di gioco e di emozioni, anche di errori ha detto parola e il Bologna ha finito per vincere perché ha sbagliato di meno. Il primo gol di Savoldi su passaggio di Roversi è da consegnare alle antologie del calcio. Colpita col collo del piede destro prima che tocchi terra, la palla corre a filo d'erba e batte Zoff sull'angolo più difficile. Appena il tempo di rimettere il pallone al centro e la Juventus pareggia con Anastasi. Damiani aveva intercettato un corto passaggio di battisodo al suo portiere e aveva colpito il palo. Alla settimo del secondo tempo il rigore in favore della Juve per questo intervento di Paris su Damiani. Cucureddu è uno specialista ma anche Busos ha il fatto suo nei tiri dagli 11 metri e il quarto rigore che para cominciò ci sembra con Gigi Riva. Ventisettesimo, il gol che decide la partita nasce da questa punizione di Pecci. Il tiro di Cresci non concede scampo all'incolpevole Zoff. Grazie a tutti.